Eccoci qui all'interno del Museo Universitario Gemma. Purtroppo non è ancora aperto ai visitatori. In attesa di potervi rivedere presto abbiamo pensato di fornire qualche pillola di curiosità scientifica sulle nostre collezioni. Partiamo oggi 26 maggio Dracula Day parlando della Transilvania, la regione storica della Romania nella quale nacque il conte Dracula. La Transilvania è famosa anche per le sue tante miniere, miniere di sale ma soprattutto miniere d'oro. Vari sono i campioni provenienti dalle miniere d'oro della Transilvania presenti all'interno delle collezioni del Museo Universitario Gemma. Vi è piaciuta questa pillola? Speriamo di sì e arrivederci alle prossime!